Amici dello sportello del cittadino, ci troviamo in città vecchia, precisamente ci troviamo presso il lungomare Garibaldi, una bellissima zona, un affaccio al mare meraviglioso, ma anche tanto degrado, tanto abbandono. Una città che sembra abbandonata a se stessa, un'amministrazione che evidentemente non vuole invertire la rotta al di là delle promesse fatte in campagna elettorale. Vedete, questo è un patrimonio naturale, anche storico, immenso per la città di Taranto. Pensate, arrivano i turisti, arriveranno le navi da crociera e presso il lungomare Garibaldi troveranno lo schifo. Così va definito, senza se e senza ma. Le immagini parlano da sole, basti vedere i cumuli di rifiuti, l'immondizia che si è incancrenita, si è stratificata da mesi e mesi, da anni. Che dire? Basta considerare poi le varie strutture, strutture per l'attracco delle barche, strutture completamente fatiscenti, pedane che crollano letteralmente sotto i piedi di chi passa. Lo ripeto, le immagini sono eloquenti, più di ogni mia parola. Si cammina intere travi di legno che incominciano a scricchiolare. Più di qualcuno è anche andato a finire a mare, eppure erano strutture per le quali 10-12 anni fa furono spessi bei soldini, ci furono investimenti pubblici, per poi farli marcire, per poi farli morire nell'abbandono. Una città rassegnata, una città morta, oserei dire. Morta perché l'hanno uccisa. Ed è triste vedere che questi bambini che animano la città vecchia, il borgo antico di Taranto, non debbano avere futuro. Debbano vivere in una situazione di degrado, tra la sporcizia, tra i rifiuti e soprattutto tra la impossibilità di poter crescere, di poter avere un futuro migliore. Perché poi tra l'immondizia e le macerie, le macerie materiali e le macerie morali, c'è poco da sperare in queste macerie. È un lungomare che se si trovasse in un'altra città italiana, verrebbe valorizzato chissà come. Penso, per esempio, mi viene in mente così, il lungomare di Palermo, che ha delle somiglianze. Un affaccio al mare meraviglioso, davvero rispettato e coltivato dal punto di vista turistico. Qui abbiamo resti di barche, resti di tutto, di un passato glorioso di Taranto e ora un passato indegno della nostra città. Vi abbiamo fatto vedere l'immondizia, vi abbiamo fatto vedere le strutture che crollano. Io dico che il sindaco deve incominciare a girare per la città, a vedere. Forse lui, eppure stiamo parlando di pochi metri da Palazzo di Città, neanche sa questo degrado. Ma cosa ci vuole affinché l'AMIU si dia da fare? Affinché la dirigenza dell'AMIU, per una volta, consentitemelo, ve lo dico con affetto, sollevate il culetto dalle sedie e andate a vedere, girate e mandate gli operatori. Qui la gente paga le tasse. La città vecchia non può essere lo schifo di Taranto.